Dal 1996 ogni anno il 21 marzo in Italia si celebra la giornata della memoria in ricordo delle vittime delle mafie. Il premio nazionale Paolo Borsellino in collaborazione con l'Associazione Nazionale Magistrati Sezione Abruzzo e ha ricordato oggi chi ha perso la vita in fatti di sangue. E a Pescara questa mattina nella sala consigliare Fausto Cardella, magistrato che indagò sulle stragi di Capaci di Via D'Amelio, ha incontrato i ragazzi di alcune scuole cittadine per raccontare la sua esperienza e di quello che oggi si può e si deve fare per stare dalla parte giusta. Sì, c'è anche il rischio di ricordare soltanto un po' come si fa con i testi classici che sono più citati che letti. Oggi Falcone e Borsellino, di cui ricorre il trentennale dell'assassino dell'Ecidio, avrebbero ancora qualcosa da dire se solo lì si volesse ascoltare. I problemi che sta affrontando la magistratura, che sta affrontando il nostro sistema giustizia, in una certa misura erano già stati previsti da loro, già stavano elaborando. Peccato che si sia fermato tutto a quel 23 di maggio e a quel 19 luglio. Mi restano, devo dirlo, le cose che ho imparato lavorando assieme a quel gigante dell'investigazione che è il Dabbo Cassini, una cosa che ha plasmato tutta la mia carriera successiva e la mia conoscenza. E oggi è importante tramandare questi ricordi, questa passione per la giustizia ai ragazzi delle scuole? Certamente, è importante dare un segnale, sono tutti gli esempi del passato, ma è importante confidare e istruire, se mi si passa il termine, questi ragazzi, perché le nostre speranze per un futuro migliore sono esclusivamente legate a loro.